Ciao e benvenuto su Top Tech Italia. Oggi ti presenterò la nostra top 4 delle migliori stufi a olio del 2021. Iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato la stufa olio Kulima SRE 3631TC2. Semplice ed efficiente, la Kulima offre una capacità massima di riscaldamento di 3100 Watt. Con questa potenza può riscaldare aree che vanno da 20 a 48 m2 e dotata di un serbatoio rimovibile con una capacità di 5 litri. Così offre a questo dispositivo una buona autonomia che varia tra le 15 e le 44 ore. La sua forma compatta e il suo design fanno di questa stufa un ottimo prodotto anche grazie al suo moderno colore nero che si integra perfettamente nell'arredamento come un condizionatore d'aria mobile. Il tutto per far sì che risulti un ottimo prodotto di alta qualità. La sua robustezza è confermata anche dalla sua garanzia che si estende fino a 4 anni. Un altro grande vantaggio da notare su questo radiatore ausiliario è che è dotato di una sicurezza per bambini. Una volta attivata blocca tutti i tasti funzione tranne il pussante on e off. Come al solito su Top Tech se volete avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per voi su internet andate nella descrizione di questo video. Lì troverete tutti i link a vostra disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato la stufa olio elettronica inverter 7748. L'inverter 7748 è una stufa elettronica che deve essere collegata alla corrente per il suo funzionamento. A differenza di alcuni modelli che funzionano con uno stoppino, l'accensione avviene tramite il gas di combustione. In effetti questa tecnologia efficiente limita l'intasamento del dispositivo e offre quindi una certa longevità. E quando si tratta di riscaldamento il risultato è assicurato. Questa stufa è la migliore stufa a olio della gamma inverter. Infatti è in grado di soddisfare le vostre diverse esigenze di riscaldamento. Ha una modalità di calore pensata per il pavimento, il che rende tutto più piacevole. Infatti questa modalità consiste nel dirigere l'aria calda verso il basso, così da non tenerla sempre verso l'alto. Al secondo posto abbiamo selezionato la stufa a olio TayoSan 233 Wick. La TayoSan 233 è la migliore stufa a olio del 2021 per tutte le famiglie che vogliono un'alternativa al riscaldamento tradizionale, come un cammino elettrico. È un modello compatto ed estremamente leggero. In altre parole si ha il vantaggio di poterlo trasportare e collocare facilmente in qualsiasi punto della casa. Di conseguenza con questo dispositivo sarete in grado di riscaldare ogni stanza della vostra casa. Questa stufa è progettata per garantire la vostra sicurezza, tenendo conto di tutti i pericoli associati a questo tipo di riscaldamento. Per questo è dotato di un rilevatore a infrarossi, che gli permette di spegnersi automaticamente quando il livello di allarme viene superato. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet, clicca sui link in descrizione. Al primo posto abbiamo selezionato la stufa a olio Zibro LC300. Con un serbatoio con una capacità di 5,4 litri, questa stufa produce una potenza massima di 3000 Watt, così può riscaldare aree tra i 20 e i 75 metri quadrati. Inoltre, a seconda dell'intensità di riscaldamento che si sceglie, questo dispositivo offre un'autonomia che va da 17 a 65 ore. È un dispositivo che si riscalda molto rapidamente, così vi assicura tutte le condizioni termiche piacevoli, solo in pochi minuti. Un altro punto interessante di questo sistema di riscaldamento è il suo basso consumo. Di conseguenza, con 20 litri d'olio riesce a riscaldare le vostre varie stanze per diversi giorni. Questo Zibro LC300 incorpora un termostato e un timer programmabile per 24 ore. Ora quello che vi invito a fare è andare nella descrizione di questo video e cliccare sui link per ottenere tutte le specifiche più complete sui prodotti e scoprire tutte le offerte che abbiamo trovato per voi su internet. Se questo video ti ha aiutato a decidere, metti un like, attiva la campanella e iscriviti al canale Top Tech Italia per rimanere sempre aggiornato sui nostri prossimi video. Alla prossima, ciao!